Simone Parodi, una serata davvero questa da incorniciare per tanti motivi, partenza difficile e poi il secondo set è stata la chiave di svolta. Sì, diciamo che abbiamo avuto un impatto sulla partita tutt'altro che positivo, quindi siamo partiti forse un po' contratti, loro però sono stati molto bravi a partire forse con una battuta molto incisiva, aggressiva, e noi siamo stati un po' peccati di eccezione, alcuni fondamentali dove comunque non siamo andati al meglio. Però siamo stati molto bravi nel secondo, terzo e quarto set, il secondo set secondo me abbiamo vinto la partita lì perché abbiamo fatto le cose che dovevamo fare già dall'inizio, delle cose semplici ma che in alcune partite magari non vengono e oggi sono venute alla grande. Questa squadra sicuramente non ha problemi di carattere, l'abbiamo visto anche nel secondo parziale quando eravate sotto di tre punti. No, perché comunque anche quando si vince un secondo set così è dimostrazione di un grandissimo carattere. non per niente comunque stiamo affrontando un buon periodo perché stiamo giocando tanto ma non stiamo mai scendendo sotto il livello che ci siamo prefissati, quindi questa è la cosa importante. Adesso abbiamo una settimana che dire importante e dire poco, quindi è una settimana fondamentale e ci giochiamo veramente la stagione. Intanto però si va in Polonia con il morale a mille perché è arrivato il primo posto in classifica e Piacenza tenuta a meno sei. Sì appunto, era molto importante per questo perché andiamo su col morale a mille come hai detto tu e affrontare una squadra così forte perché secondo me Rosovia ha una rosa fortissima e dobbiamo arrivare appunto con una vittoria che ci dà molta carica per affrontare questa partita. Grazie a tutti. Grazie.